ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un mio nuovissimo video oggi tu devi aspettare che faccio questo video e infatti eccomi qua sono tornati al mio top ten list le 10 donne più belle d'america incominciamo subito e c'è pure la signora incominciamo dicendo al decimo posto ho visto in questo sito dove guardo sempre c'è vanezza oggi perché chi è che non si aspettava Gabriele Montezzi che hai scognito in quel punto poi non ho posto poi io ne ho perso tutto in piedi lei è Arianna Grande poi a me non ho scoperto al top posto c'è lei Gabriele Ognone della serie Brink Marie Mary Jane non so ho visto ne bevo giuna ne bevo giuna poi al settimo posto c'è scegli Michele però poi c'è Gemma Deontatuma ma questa qua è come la nostra Maria di Filippo che vi ho perché questa è esplosata molto importante nell'America c'è Gemma Deontatuma 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 il mariccio di Sancio americano e questo è il sesto va e là ora andiamo al quinto posto la Venkotts c'è Gemma Deontatuma e al quarto posto muoio fa un appunto a quel tiro se tu mi metti il Megantrene al quarto posto non mi ci metti il grana grande ma che si richiughe perché ho fatto sta gut poi al terzo posto c'è Taraji Payhenson vabbè voglio una coreana scorsese del Filippo il secondo posto c'è una che si chiama Gigi Head non so allora al primo posto c'è la mitica c'è la mitica la migliore Sandra Bullock e con questo direi che è tutto io vi lascio il video vi dico di iscrivervi al canale lasciarmi almeno quattro mi piace e se vi piacciono questi video iscriviti nei commenti se mi piace che se mi continuino così vengono a fare questi video e ricordiamo finisco per dire una leggenda The Brand of the World sono sempre sono sempre e noi ci vediamo domani un prossimo video per tutti per la gente per la zio viva il capitano con c'è l'asciutto che il capitano